Siamo qui all'House of Glass di Gianni Bini, una giornata splendida, siamo a Viareggio al mare. Ci sono anch'io, non mi vedete ma ci sono anch'io. Esatto, dopo spaghetti allo scoglio, ma intanto vediamo se c'è Gianni, suoniamo e facciamoci vedere. Vediamo se c'è qualcuno prima che siamo venuti per niente da Milano. Vai. Permesso, permesso. Ecco perché si chiama House of Glass. Eh sì. Va quante vetrate, che luce che entra. Ma adesso entriamo. La madonna. Ciao Gianni. Ciao Gianni, ci hai fatto venire qua nel Parco Divertimenti. Nel Paese dei Balocchi. Allora, raccontaci un po' qua tutta la barca. Allora, intanto questa è la regia. Sì, poi vedremo la ripresa. Questa è la regia principale perché ci sono altre due regie di sopra. Cominciamo col dire trattamento acustico, che noi diciamo sempre quanto è importante il trattamento acustico. Qui l'ha fatto qualcuno che sa quello che fa, diciamo. Questo trattamento acustico è frutto di un progetto iniziato dal ingegner Giovannozzi, pace l'anima sua, che purtroppo lo ha visto finire ma non se l'è goduto tanto perché è mancato poco dopo. Uno dei suoi, anzi il suo migliore allievo, Delfino, poi che ha preso in mano tutta la sua azienda, Donato Masci, ha completato il progetto e lo ha reso... L'ha ottimizzato. L'ha ottimizzato su delle richieste mie precise perché io ho esplicitamente chiesto una linearità estrema ma soprattutto sulle basse frequenze perché io amo tanto le basse frequenze ho chiesto che fossero molto molto ben contenute. Anche quel pelo in più rispetto a lo standard proprio perché lavorando molto anche nella musica elettronica avevo bisogno di fermarle per poter... Devi sapere esattamente cosa succede da sotto perché poi i pezzi quando vanno nei club se no è un disastro. Soprattutto con le Adam Grandi, le S7A che hanno una grossa pressione e cosa abbiamo fatto? Abbiamo incastonato in dei loculi di cemento le casse ancora prima di completare lo studio abbiamo cominciato a fare delle rilevazioni acustiche. Queste rilevazioni acustiche ci permettevano mano a mano di correggere la stanza in virtù della risposta in frequenza delle casse, fino ad ottenere il massimo risultato possibile e infatti secondo me ma secondo anche l'opinione del... Anche questo, nominando gente che purtroppo non c'è più, di Jarmo Masco che venne qua in qualità di presidente di genere che a dire non sopporto questo studio di vederlo con delle Adam e abbiamo le Genelec nuove bla bla bla... Lui quando sentì queste Adam disse no però cavolo non posso dirti niente sono veramente bene e quindi invece adesso gli ascolti sono? Gli ascolti adesso sono Anfion Anfion principalmente il sistema è un 714 quindi Dolby Atmos in più appunto delle grandi Adam in più una serie di piccoli ascolti più o meno Hi-Fi le piccole Rush una Sonos di Ikea per un ascolto diciamo così lo fai... di Atmos più che altro un ascolto lo fai anche dei mix, un ascolto home diciamo e le immancabili insomma serie di cuffie con cui uno poi fa dei check del mix, quindi prima di tutto lo dico spesso l'acustica della stanza, in questo caso purtroppo venivamo da una tragedia che è successa nel 2009 dove tutto questo che sta inquadrando era completamente carbonizzato e ha demolito però io mi ricordo che abbiamo segnato esattamente le mura le periferie cioè proprio la forma delle mura in maniera da ricostruire al centimetro la forma della della regia come era prima perché anche prima ovviamente aveva un'acustica perfetta per cui ho chiesto esplicitamente dire segnatevi bene dove erano quali erano le misure e le proporzioni perché rivoglio perfettamente al centimetro la la stessa forma della stanza e sperando anche il della stanza acustica ci siamo riusciti con l'apporto appunto di donato e dalla parte appunto di tecnica di progettazione e con un team di persone che hanno lavorato poi Giovanni Blasi in primis che è una persona senza la quale io probabilmente sarei ancora a saldare il primo jack perché la prima console era una ssl duality per chi non lo sa una ssl duality comporta 72 cavi multipolari in questo caso di una lunghezza di 10 metri l'uno che poi da una parte va saldato il db25 dall'altra parte un numero imprecisato di xlr per cui ci sono stati mesi di lavoro poi saldi il maschio ma cazzo qua dovevo mettere la femmina poi ovviamente cosa succede che saldi tutto poi io cambio un outboard che ringrazia già Giovanni scusami abbiamo cambiato una cosa e quindi Giovanni in primis Stefano che ha realizzato fattivamente tutta la tesatura delle stoffe Stefano Polloni e Adriano Piola che è stato con me tutto un mese d'agosto mi ricordo a dare una mano invece di andare qua a 800 metri dove c'è il mare sentivamo le onde ma lavoravamo quello che vedete è diciamo l'HOG 3.0 cioè dopo il progetto finale del 2009 ci sono stati vari upgrade quello che state inquadrando che inquadravate PIME allora il cuore il cuore di tutto lo studio è questo banco giusto? allora sì questa è una console sempre prodotta da solid state si chiama System T quella che vedete è una versione custom perché SSL non faceva una versione a 4 monitor vedete ci sono quattro vasche a ogni vasca corrisponde molto la fa normalmente lo standard è a 3 siccome l'ingombro della duality era più o meno quello che raggiungi con un Assistant T a 4 vasche per non stare poi a cambiare a cambiare tutto i mobili precedenti abbiamo chiesto e ottenuto che SSL facesse una versione a 4 vasche è una console a tutti gli effetti con tutte le funzioni di una console analogica in più una miriade di altre funzioni perché la console deriva da una filosofia broadcast alla quale sono state aggiunte tutte le peculiarità che una console dedicata alla musica deve avere in primis l'automazione dinamica e poi tutta una serie di accorgimenti da controller una creazione di un workflow moderno quindi canale, stem, master come si lavora normalmente quando si mixa in the box ma la console ha una grande flessibilità e mi permette ad esempio di poter lavorare contemporaneamente anche su due progetti perché ho un numero di canali praticamente infinito posso registrare una band in ensemble mentre la band registra su altri X canali posso cominciare a mixarla senza che questo infici l'ascolto della band cosa voglio dire? posso mettere, insertare macchine, outboard, equalizzare, comprimere, mettere in solo, fare dei gruppi senza che questo vada a inficiare l'ascolto che il musicista ha in cuffia e questo abbatte tantissimo i tempi di lavorazione e poi mette a proprio agio i musicisti che quando attaccano vogliono subito suonare, vogliono troppe menate una volta che noi abbiamo fatto un setup di partenza già il musicista visto che l'abbiamo salvato si trova più o meno già un buon mix deve solo fare dei piccoli tocchi il musicista in questo caso ha un mixer ci sono 14 mixer di presonus a disposizione di 14 elementi di una band nei quali possono farsi in completa autonomia i volumi di 16 elementi diversi e possono addirittura equalizzare e comprimere ogni singolo elemento aggiungere delay reverbero solo per il loro ascolto diciamo stile Nashville che forse è l'unico posto al mondo dove ancora registrano i musicisti tutti insieme cosa che magari a Los Angeles non succede più da un pezzo così dicono e qui invece si può registrare una band che suona tutti insieme quindi esatto se una band fa jazz ci sono anche i fiati dopo vedremo la vedremo la ripresa di là dove si fanno tutte queste cose in oltre se volete approfondire il banco eccetera sul nostro canale c'è una live che abbiamo fatto qui alla house of glass dove spiegato tutto nel dettaglio il workflow fatto sentire eccetera ma questo è solo l'inizio poi abbiamo tutta una serie di outboard cominciamo a vedere un blocco alla volta tipo quello che va sul mix bass cominciamo dalla parte bella Allora io penso a questo rack che sta inquadrando un po' come il mio suono il mio marchio quindi non tanto per la tipologia di macchine che comunque è una tipologia di sicura qualità ma piuttosto per la maniera nella quale io le setto quindi questo fa abbastanza differenza lo abbiamo visto anche ai tempi della live che abbiamo fatto insieme già cominciando a lavorare con determinati settaggi poi si arriva un risultato che può essere anche diverso se uno fa settaggi completamente diversi per cui vedete ci sono tanti compressori c'è il bass plus c'è west audio c'è il phoenix c'è anche lo shadowville e c'è anche un multibanda quindi sono più che altro compressori ma non vengono usati per comprimere contenere il suono in maniera esasperata bensì per dare un tono e una leggera saturazione Sì perché sono tutte macchine che oltre a fare il mestiere per cui sono state create cioè la compressione hanno un carattere specifico quindi a seconda del carattere che tu vuoi dare al mix utilizzi una piuttosto che l'altra piuttosto che due in sinergia piuttosto che... e poi c'è la macchina che a me devo dire mi ha impressionato tantissimo quando l'abbiamo usata che è la macchina che è il... lo accendiamo... le Q... le Q di Better Maker è una macchina moderna che consente di poter applicare delle curve di equalizzazione sia in modalità stereo sia in modalità dual mono sia in modalità mid-side quindi per un controllo pressoché infinito del nostro mix è controllata da un plugin quindi abbiamo dei grandi benefici il primo è ovviamente il total recall in maniera che ogni volta che si apre una sessione nella DO la macchina si setta di conseguenza e questa è una grandissima comodità anche e in più possiamo automatizzare ogni singolo parametro della macchina in maniera da poter eventualmente applicare delle curve di equalizzazione in maniera dinamica a seconda delle parti del brano e questa è un'altra cosa che una macchina sprovvista di queste di queste feature non può non può fare a meno che non si faccia a mano ce ne vuole poi lo Shadowvilla appena sotto io mi ricordo che ai tempi della nostra live lo abbiamo utilizzato solamente per dare un tono ma non per comprimere non comprimeva ma aveva... l'abbiamo scelto perché passando dai suoi trasformatori effettivamente dava un carattere al mix che aveva il suo perché soprattutto secondo me sulla musica rock sulla musica acustica in genere e comunque su musica di una certa energia non occorre assolutamente andare a schiacciare più di tanto anche perché diventa bello ma un po' troppo forse ma basta quel poco e la macchina fa già tanto quindi in realtà costa tanti soldi va usata con parsimonia esatto esatto bisogna usarne poca nonostante sia costato tanto però quel poco fa veramente la differenza si tende a pensare che siccome l'ho pagata tanto non è questo il caso il caso io erroneamente l'ho pensato quando l'ho comprata ma mi sono subito ridimensionato è che con questo tipo di macchine è facile farsi prendere la mano perché tu schiacci schiacci e suona sempre bene non è come col plug in che schiacci e ti soffoca tutto e dici no cazzo sto schiacciando troppo lì schiacci 10 db e poco e non te ne accorgi poi te ne accorgi in realtà quindi si cerca di rimanere sempre il più dinamico possibile se mi voglio spendere un pochino su questo compressore che è recente prodotto da West Audio anche questo ha, lo accendiamo, la peculiarità di essere controllato da un suo plug in insieme a tutta un'altra serie di outboard di West Audio questo compressore lo utilizzo in modalità spesso mid side e viene utilizzato non solo e quasi mai per applicare una compressione estrema ma piuttosto per, vedete qua, posso gestire la distorsione armonica il tipo di distorsione armonica che io do al mio mix o al side o solamente alla parte centrale del suono e l'utilizzo dei trasformatori premendo iron e compensando l'extra gain che si da al trasformatore di uscita compensando con un pad crea una serie di armoniche sia pari che dispari che danno un carattere al suono quindi spesso più che utilizzarlo per la mera compressione viene utilizzato per il colore su alcuni generi è veramente formidabile e fa la differenza salutiamo un ospite che è appena arrivato un ospite speciale che passava di qui ciao Giancarlo Giancarlo del sordo di Acusic Audio siamo tutti una grande famiglia ma non è che andrete a mangiare il sushi dopo no, soprattutto tu non vieni io non vengo noi gli diamo la focaccia passiamo dal bar e prendiamo la focaccia ti mangi la focaccia la focaccia col crudo passiamo di qua e cominciamo a vedere un po' di giocattolini allora qua ci perdiamo la giornata allora questa prima macchina è un compressore degli anni 70 l'Orban questo è il modello stereofonico 414 è in questo studio per una sola ragione c'era uno spazio vuoto no, anzi guarda è appoggiato sopra quindi non c'era neanche spazio un mio cliente, chiamarlo cliente molto riduttivo Roberto Zanetti conosciuto come Savage ma anche produttore di tutta la danza degli anni 90 lavora quasi sempre, anzi sempre in questo studio e lui quando canta mi obbliga a utilizzare questo compressore in quanto questo compressore essendo rozzo di per sé applica una saturazione molto importante alla voce in una maniera che però la sua voce prende quella caratteristica che lo distingue che lo ha sempre distinto nelle sue produzioni per cui quando bruciò lo studio bruciò anche l'Orban originale che usava lui e mi ha obbligato a trovarne uno sui mercatini e averlo qui perché quando viene lui devo obbligatoriamente usarlo mentre i rack sotto sono quanto di più moderno ci sia oggi quindi come vedete si accendono e caricano l'ultima impostazione utilizzata all'interno di un mix sono completamente e totalmente analogici questi primi sei sono degli 1176 serie 500 poi abbiamo un equalizzatore mid-side dual mono o stereo abbiamo una serie qui ce n'è uno ma sopra ce ne sono altri due quelli con il V-meter diciamo così su sfondo bianco sono dei vari MU assimilabili a compressori e tu ne hai tre ne ho tre più un compressore VCA quindi un classico bass compressor che hanno tutti la peculiarità di essere gestiti e controllati dal plugin lo chassis manca le cutra tipo pulte esatto vedete c'è il buco per i pulte che stanno arrivando questi due chassis serie 500 prodotti sempre da us audio hanno un grande vantaggio quello di permettere con un solo cavo usb di controllare tutti i moduli che sono all'interno altrimenti dalla porta usb centrale dovrei far partire un numero di cavi per connetterli direttamente al computer e quindi hanno ben pensato di fare anche uno chassis che riesca a gestire tutto il sistema se secondo me c'è un outboard intelligente oggi da inserire in uno studio è un outboard di questa concezione il suono secondo me è assolutamente stellare però lascio a voi poi decidere l'ergonomia degli outboard invece è cambiata negli anni a seconda delle mie esigenze della mia noia della mia voglia sempre di cambiare in questo momento diciamo che il primo modulo che si vede è un modulo dedicato alla preamplificazione ovviamente la console ha tutta la sua preamplificazione SSL che in questo caso è alloggiata direttamente nella sale di ripresa lo vedremo poi insomma se uno vuole dei colori diversi può utilizzare una coppia di NIV 1073 con EQ può utilizzare l'Avalon 737 può utilizzare una macchina forse un po' meno conosciuta la FUSIFIR che è un preamplificatore, filtro e saturatore e anche tape simulator per dei suoni ovviamente molto molto caratterizzati questo è una delle macchine a cui tengo di più il Manly Vox Box che non ha credo bisogno di presentazioni che utilizzo tantissimo ovviamente sulla voce ma tantissimo anche per riprendere l'ADI del basso che arriva in doggia bella colorata insomma e quindi ha molteplici funzioni se facciamo un attimo una... c'è anche il piano di sotto andiamo al piano garage qua abbiamo nascosto da questa asola che ormai c'è e me la tengo abbiamo un ISA che è stato il primo Outboard che ho comprato dopo la tragedia dovendo comprare la prima channe strip per fare delle piccole cose in una stanza non trattata ne ho comprato una che fosse un po' buona per tutto insomma e comprai questo e qui diciamo termina la zona dei channe strip poi qua c'è di tutto e di più io direi non li diciamo uno a uno ok, si perde troppo tempo però li inquadriamo li inquadriamo tutti e magari ne analizziamo qualcuno chiave chiave diciamo tipo quello che noi abbiamo usato sulla batteria che è tipo Fairchild che è bellissimo esatto che è l'IGS Tube Core che è un processore mid-side in questa versione da mastering quindi con i pomelloni a scatti però come i Fairchild ha la popolarità di lavorare in modalità mid-side quindi soprattutto sulle batterie le apre molto perché comprimendo in una certa maniera il side e compensando la gear reduction si ha una sensazione di più di maggiore apertura della batteria in sé per sé poi vedete c'è di tutto e di più c'è il De Maria LA2A stereo c'è un LA2A mono ci sono gli 1176 un Summit TLA100 due LA3A e questa macchina forse vale la pena audio design vocal stress che è una macchina degli anni eh bravo che ci dicevi esatto questa è una macchina che deriva cioè che è stata prodotta negli anni settanta e dismessa ma che ha una caratteristica sonora molto molto particolare e permette di equalizzare in modalità deep o notch il suono e di comprimerlo è tutto molto rude però per certi generi musicali ha proprio quella caratteristica quel graffio che le macchine normali non hanno quindi viene utilizzata soprattutto in parallelo sulla voce poi c'è un retro che io adoro poi c'è un po' di modern vintage ormai quindi Distress, Orfazzo, Loop Trotter Muscle Compressor e lo Stalevel che sono macchine che sono diventati dei classici anche se non sono vintage ma sono già diventati sono già diventati dei classici poi ci sono due euro che do a voi sì esatto un altro classico dei giorni nostri è il Culture Vulture di Thermionic l'STC8 macchina compressore molto molto variabile versatile e di grandissima utilità soprattutto in finalizzazione e uno Sherman che è un filtro così Daft Punk style il Dolby non è mio me lo ha diciamo così prestato barra regalato Mirko Cascio ovviamente lo uso in parallelo sulla voce per dare quell'enfasi alle alte frequenze e un transient design stereo che su cassa e rullo a volte svolta allora perché? tutto il sistema è collegato alla console ma senza una vera e propria patch bay perché la console ha una patch bay interna digitale quindi io posso insertare quindi è già patchato su dei convertitori è già patchato su dei convertitori in maniera che io dalla console decido quale insert quale macchina voglio usare con due click la assegno al canale i convertitori sono Apogee andiamo a vedere... ah beh poi la... si scusa... c'è bricasti... ci siamo dimenticati ma... qualche cosina ci è sfuggito allora vedete ho appena detto che non c'è la patch bay in realtà questa patch bay ha il solo scopo di poter permettermi di fare delle catene senza fare avanti e indietro e convertire e riconvertire ma vedete sono in questo caso solo due bantam quasi mai la utilizzo però eventualmente ho questa possibilità diciamo qual'è la catena che utilizzi sulla voce di solito? la catena che io utilizzo sulla voce di solito è una catena che inizia dal massenburg per dare comunque una prima curva di equalizzazione va in uno stalevel esce dallo stalevel torna in un altro massenburg per ulteriori correzioni di equalizzazione e poi va in un compressore veloce che può essere un 1176 può essere un... un altro tipo di compressione anche quella dei Chandler strip per esempio Lisa o cose del genere ovviamente a seconda del tipo di cantato, di voce eccetera o a volte anche niente se non serve tutti questi andi rivieni diciamo sono gestiti dalle sinfoni che originariamente erano classiche sinfoni 32 in 32 out e poi quando è stato possibile ho aggiunto la scheda Dante che mi permette di aggiungere appunto una comunicazione di 64 in e 64 out ai già 32 precedenti questo per il dialogo ovviamente con la console che utilizza il protocollo Dante che è essenzialmente un protocollo di comunicazione via cavi di rete infatti come vedete tutto il cervello e la vera vera patch bay passa attraverso dei router Cisco che gestiscono tutte le macchine connesse al router e non sono solo quelle della regia questa che abbiamo inquadrato ma di tutto lo studio e il concetto è quello di una rete wifi in casa quindi si ha un router centrale e uno che arriva e entra con un telefonino una volta che ha la password si connette e può beneficiare della rete questo è lo stesso concetto noi abbiamo un numero di input e di output nel mio caso 128 e questi input e output sono utilizzati da me ma anche dalle altre regie che magari dopo vedremo che dopo vediamo quindi ci condividiamo e facciamo uno sharing delle risorse che il sistema ci dà uno studio analogico ma super moderno esatto il master clock che genera appunto la frequenza alla quale si lavora in questo caso 48.000 la ferrofish è utilizzata esclusivamente per la gestione delle segnali che vanno in cuffia una sezione di preamplificazione di API per avere anche dei colori diversi da quelli di SSL e una gestione di reverb esterni il M7 di Bricasti, il PCM96 e il DigiGrid che mi permette di poter insertare plug-in waves in qualsiasi punto della catena di mix perché in un concetto di console si deve tenere sempre chiaro che quando il suono abbandona la DO e arriva alla console dopo non può più essere trattato con un plug-in ma deve essere trattato o con la console o con un output volendolo fare io posso insertare fino a un numero importantissimo 300-400 plug-in di waves o di plug-in compatibili DigiGrid in modo da poter ulteriormente applicare dei processi in questo caso ovviamente solo digitali il server di waves ovviamente si fa carico di tutta la CPU quindi tutto il processo non pesa sulla CPU del computer andiamo a vedere la sala di presa? andiamo a vedere la ripresa? scusa inquadro la vera regina dello studio lei la regina dello studio la regina dello studio si chiama Margot ed è il cane più buono del mondo faccio strada? vai allora ci sono qua state appunto discussioni su come utilizzare gli spazi quello che vedete è il frutto della decisione finale ci sono tutta una serie di spazi sfruttando il protocollo dante ho la possibilità di interconnettere qualsiasi ambiente dello studio in maniera da poterci eventualmente mettere un musicista e registrarlo questo piccolo boot oltre ad essere diciamo il magazzino dei ricordi e anche la sede dove alloggiano molti dei microfoni che utilizzo è comunque anch'esso un boot studiato soprattutto per originariamente per registrare delle voci, degli strumenti a fiato, delle percussioni lo spazio non è grandissimo ma è sufficiente a poterlo fare mentre la parte centrale degli ambienti di ripresa alloggia una serie di strumenti diciamo resident dello studio e sulla parte appunto di strumenti a tasto ho voluto non farmi mancare niente quindi oltre a un Yamaha C7 che è un pianoforte a coda che è presente ti accendo la luce ma si vede guarda eh molto spesso quando faccio una produzione col pianoforte il pianoforte è realmente il mio Yamaha C7 raramente uso dei software viene microfonato di volta in volta diversamente a seconda del tipo di suono che voglio ottenere mentre abbiamo un Rhodes dei primi anni 70 un Wurli della seconda metà degli anni 70 e un organo, un Hammond per completare il setup quindi band che fanno rock blues, band che fanno jazz, band che fanno... non devono portare niente perché trovano già tutto qua tutte le macchine sono manutenute in maniera maniacale perfettamente funzionante non c'è niente in questo momento mentre vi parlo dello studio neanche una spia o una lampadina di un Outboard che non funziona e questo per me è... qua vedo il tappeto quindi qua viene posizionata la batteria spesso e volentieri viene posizionata la batteria ma il tappeto rimane perché molti cantanti battono il piede quando canta ah ok ok e il setup che vedete è... cioè quello diciamo così la confusione che vedete insomma chi ha uno studioizzazione lo sa gli studi troppo ordinati vuol dire che non stanno lavorando non stanno lavorando esatto, la c'è un boot seguimi che te lo faccio vedere questo è un drum boot e a dispetto della sua non grande... grande spazio l'abbiamo ricavato all'ultimo momento però Donato mi ha fatto un trattamento acustico esclusivo per la batteria e non crederete anzi potrei citare degli esempi di batterie registrate qui con la porta chiusa quindi senza room eccetera eccetera che suonano assolutamente benissimo le batterie che vedete nello sfondo sono varie batterie a disposizione del batterista qualora non si porti niente dietro piatti e batterie sono di mia proprietà e la batteria diciamo il setup a cui tengo di più è quello centrale perché è una Roger di mio zio che comprò negli anni 60, fine anni 50 e che io ho promesso di tenere come una reliquia questo mi da diciamo insieme al Supraphonic un suono assolutamente vintage che presuppone una microfonazione altrettanto vintage quindi l'abbiamo recentemente registrata con una Glyn Jones fatta solo con i Colts ed è venuto quel suono la Glyn Jones è una tecnica di microfonazione della batteria in rete potete trovare di tutto e di più che usa solo tre microfoni si chiama Glyn Jones perché è stata inventata o messa a punto diciamo da uno dei più grandi produttori di tutti i tempi che è Glyn Jones appunto fratello di Andy Jones tutte e due hanno fatto Zeppelin Hendrix di tutto e di più se non lo avete fatto vi invito a provarla una volta perché effettivamente è una figata la figata è che qui puoi fare delle batterie belle tight all'occorrenza all'occorrenza puoi lasciare le porte aperte metter microfonare qua e avere una room come si deve siccome è tutto trattato acusticamente in modo magistrale si fanno delle batterie che spaccano ammesso che la batteria sia accordata come si deve e il batterista sappia quello che sta facendo quindi se viene male è colpa del batterista se qua viene male è colpa del batterista se invece mi inquadri questa zona c'è uno diciamo di questi piccoli rack in ogni sala di ripresa questa è la parte diciamo mobile della console è la parte di preamplificazione quindi ho in questo caso 16 ingressi che sono sia microfonici che di linea che iZ all'occorrenza si setta tutto e è tutto remotato dalla console quindi io posso mettere fino a 16 microfoni in questa stanza però mi sono lasciato la vecchia patch analogica quando avevo la duality in modo che se non li connetto qui i primi 16 vanno direttamente negli API per esempio ovviamente i benefici di utilizzare il preamplificatore SSL sono anche quello di un ridottissimo percorso microfono scheda audio quindi non ci sono assolutamente mai problemi né di ronze né di hum di masse o di questi disturbi che poi e si che qui si avvicina massa esatto e tutto il segnale va direttamente al convertitore senza perdite diciamo di utilizzo questo è il piano terra andiamo di sopra vediamo gli altri due studi la lounge la cucina vai allora la prima cosa che si trova al piano sopra è intanto altro glass una postazione di lavoro burocratico contrattualistica fatturazione eccetera eccetera poi abbiamo da qui diciamo l'estetica diventa molto marina il falegname che ha fatto queste cose lavora nella canteristica il mio reggio è famosa per la canteristica quindi vedete delle soluzioni tipiche dei bagni dei yacht quindi questo è il bagno il bagno fondamentale ovviamente anche la cucina come vedete in stile alla diciamo così stile barca diciamo yacht cucinetta da cabinato in questo caso e ci porta questo a conoscere francesco francesco è il vero valore aggiunto dello studio non ama farsi vedere e non ama farsi intervistare però lavora in questa regia che è di piccole dimensioni ma di grande potenza perché è connessa alla rete dante e quindi sfrutta tutte le caratteristiche volendo lui può insertare una macchina analogica giù se è remotata la può controllare quindi lui lavora soprattutto agli arrangiamenti e sta essendo lui un bravissimo polimusicista quindi mi porta a casa tutti gli strumenti fondamentalmente poi se mi seguite e state attenti a due scalini per scendere 3 e 4 per salire arriviamo all'ultimo diciamo pezzo dello studio dove lavora Matteo ciao che è un ragazzo che io ho definito sento un po' come un figlio perché ci siamo conosciuti ha fatto un corso di ben un anno da me dopo è rimasto è stato assunto e si occupa di produzione mix e mastering e lo fa soprattutto in ambito elettronico quindi dalla house alla tech house alla techno al pop alla trap tutto quanto non preveda diciamo quasi mai la registrazione di strumenti acustici qui c'è un'acustica curata sempre da donato però ancora incompleta perché è un po' walk in progress questa sala gli ascolti però sono sia Genelec che AS29 che gli permettono comunque di avere un controllo lineare dei suoi mix eventualmente si può fare un check giù nella regia in tempo reale da cui poi si può controllare il suo computer e fare degli aggiustamenti direttamente giù questa stanza la penso un po' come una production room oppure come una anche una mixing room di progetti appunto con il cliente che può avere un po' spazio anche per poter stare nel io come dicevo a Gianni senza nulla a togliere di sotto che chiaramente è una grandissima figata io starei qua sì ma tu staresti per il divano quello è un altro motivo perché il divano è sempre il gear fondamentale del studio anche perché in realtà il divano si apre lo schienale va giù diventa un letto una piazza e mezzo e spesso ci ho anche dormito questa sarebbe la mia room diciamo che il tour si chiude qui direi che il tour si chiude qui quindi ringraziamo Gianni che ha una struttura fantastica siamo in un posto fantastico perché via Reggio, Versilia, mare, spiaggia, grigliate di pesce carbonara di mare esatto esatto quindi ragazzi qui sotto ci saranno i link se volete contattare se volete chiedere dovete fare metteremo qua sotto il link per poter contattare Gianni il sito eventualmente per vedere anche altre cose come abbiamo detto è www.houseglass.it e sarà qua sotto nella descrizione e ci vediamo al prossimo tour lo posso fare io? sì vai ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 ciao